Quest'anno i cori vengono messi a confronto l'uno con l'altro. Che cosa significa questo? Significa che si vuole approfondire veramente la conoscenza del coro per rilevare i più bravi? Non è tanto mettere a confronto dei giovani e dei meno giovani in una gara spietata che decreti i vincitori. Direi piuttosto portare nelle forme di un concorso tutta una serie di espressioni culturali, musicali, corali che possano portare valore aggiunto alla coralità, alla musicalità. Possano in effetti consentire poi al pubblico di apprezzare espressioni diverse che vengono da varie parti d'Italia. Quindi da questo punto di vista è una gara certamente, ma una gara nello spirito dell'incontro internazionale polifonico che per 50 anni ha avuto la possibilità di offrire espressioni musicali provenienti da varie parti del mondo. 21 cori a livello nazionale converranno qui a Fano e esibiranno la loro bravura. Questo è un successo già ottenuto in partenza? Sì, il numero di iscritti ci dà già una certezza che abbiamo avuto una buona idea e che Fano è attrattiva. Pensiamo e speriamo che la giornata di domenica 11 sarà una giornata anche proprio bella per i fanesi, per le persone che verranno a ascoltare il concorso, ma anche per tutti i partecipanti. Perché Fano è accogliente, offre un'ottima situazione anche organizzativa perché è tutto vicino, tutto accogliente. Il luogo dove canteranno i cori è un luogo che sicuramente aiuta il canto perché la Pienacoteca è un luogo dove si fa musica, dove si vede arte a tutte le parti. Quindi siamo molto felici di partire in questo modo. Parliamo anche del concorso. Come si svolgerà, che ora inizierà e come saranno le varie tappe? Abbiamo quattro categorie, tre si svolgono la mattina e uno il pomeriggio. Il pomeriggio c'è un concerto finale di tutti i cori. Quindi le categorie della mattina che iniziano alle 10 sono dei cori misti, dei cori femminili e dei cori giovanili, under 20. Poi c'è una piccola pausa perché la giuria deve decretare intanto i risultati di queste prime tre categorie. Una pausa a pranzo. Nel pomeriggio alle 14.45 reiniziano i gruppi vocali, cioè Ansan Piccoli. E poi dalle 16 un concerto in cui ogni coro per l'assegnazione del premio del pubblico canta un brano e il pubblico potrà votare. Quindi avremo il modo di avere anche un premio dato proprio dalle persone che sono ad ascoltare quel concerto. Alle 17.30 invece la prima azione di tutte le categorie e il termine del concorso.